L'Umana Reier esce pesantemente sconfitta dal big match di Milano, un passaggio a vuoto che tra le tante soddisfazioni del mese di novembre ci può anche stare di fronte a un Olimpia che è sembrata tutt'altro che una squadra in difficoltà. La gara è stata caratterizzata in particolare da una prima metà in cui i padroni di casa sono riusciti a realizzare la bellezza di 51 punti, scavando un solco che ha condizionato la seconda parte di partita. Da parte sua, l'Umana ha provato a raddrizzarla tirando più da tre che da due, ma nonostante un avvio di grandissima precisione dall'arco ha infine chiuso con un 10 su 33 dalla lunga, troppo poco per impensierire i padroni di casa. Il finale parla chiaro 87 a 65, per l'Umana Reier bene Owens con 13 punti. Venezia non è mai stata nel match, l'unica flebile speranza si è accesa quando mancavano 5 minuti alla fine e la tripla di Ruzziera ha portato la Reier sul meno 13. Per Recalcati c'è ancora molto lavoro da fare. Queste partite devono servirci proprio per farci capire che così non siamo competitivi, così subiamo sempre, perché concediamo troppo ai nostri avversari, perché è impossibile giocare contro una squadra come Milano concedendo loro 20 rimbalzi in più, che vuol dire 20 tiri in più, concedere a Milano di realizzare dentro l'area con il 70%, e questa è la cartina di tornasole della nostra squadra in questo momento.